Ho sempre lavorato in posti rumorosi e adesso ho perso l'udito. Rispondere al telefono per me è un incubo. Ma grazie a Hearing Group oggi ho acquistato l'udito. I loro dispositivi migliorano il tuo udito. E grazie a loro ho anche percepito il mio worker compensation. Chiamali. Oggi. Perché tu meriti. Grazie.